Oggi ha brillato una stella da tutte le altre diversa porta un messaggio del cielo pieno di pace e di amore non c'è più posto in paese per San Giuseppe Maria solo una stella l'han trovato dove passare la notte Aveden! 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 Per vedere Messia che sta nascendo Aveden! 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 Per vedere Messia nel presente a questi due giorni! Aveden! 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 I pastori vanno Il Dio bambino è nato in una stalla a Bethlehem, gloria in cielo a Dio e pace agli uomini in terra. A Bethlehem, a Bethlehem, i pastori vanno con te, a Bethlehem, per vedere Messia che sta nascendo, a Bethlehem, a Bethlehem, i pastori vanno con te, a Bethlehem, per vedere Messia nel presepe.